Se il tuo computer è diventato lento e non vuoi poi ancora sostituirlo con un nuovo modello, puoi adottare un semplice trucchetto, ovvero disattivare le app in background che appesantiscono la memoria del tuo PC e rallentano Windows 10. Per arrestare l'esecuzione in background delle app, clicca sull'icona di Windows e seleziona Impostazioni, poi clicca su Privacy e successivamente su App in background. Puoi anche accedere rapidamente alle impostazioni App in background utilizzando la funzione di ricerca. Basta cliccare sull'icona di ricerca, digitare App in background e poi cliccare su App in background o in alternativa sulla scritta Apri presente a destra. Una volta entrato nelle impostazioni App in background devi disattivare l'opzione Consenti l'esecuzione delle app in background. A questo punto sarai riuscito a velocizzare il tuo PC.